Ciao, creatura. Io sono Ecate Splendente e benvenuta o bentornata nel regno di Kozai E.S.M.A. Nuovissimo, questo martedì di Porto, un haul di action per cambiare un po' tra mercato e altri vari siti. Cambiamo un po' questa sera action. Ho cercato delle cose che io ovviamente non ho trovato. Non so perché su internet vedo dei determinati prodotti e poi quando vado io ad action non ci sono mai. E però vabbè ci tornerò prossimamente per cercarli di nuovo con calma. E niente, ho fatto anche qualche video per mostrarti alcune cosine che mi attiravano e le vediamo insieme proprio come quando facciamo l'haul del mercato. Infatti mi sto già spostando da un lato, creatura. Allora, appena entrata, c'erano le cose tra virgolette in promozione e c'erano questi lecca lecca, sembravano, mi ricordavano un po' Willy Wonka. Perché sembravano i succhia-succhia che mai si consumano, 5.000 strati, non li ho presi. Però ho preso in realtà questi qui che sono della Chupa Chups, adesso li vediamo insieme, 89 centesimi. E poi c'erano altre caramelle, cioè che se fossi stata una bambina le avrei volute tutte. Dal primo all'ultimo le avrei volute. E allora, devo cercarle qua, c'ho il mega sacchetto. Queste le avevo viste, acquistate da chiunque su TikTok e anche su altre piattaforme, altri social. E, boh, mi ispiravano. Quindi ho deciso di acquistarli per provarli. Poi dopo magari sui citi farò sapere. Mi trovi col nome Eccate Splendente, se ancora non mi si acqui su Instagram. Allora, c'erano tre gusti. Sono fragola, ciliegia e pesca. Io ho preso, ne ho presi due, ciliegia e pesca. Perché fragola mi sembra sempre il solito gusto chimico, non so. Mi piace tanto la frutta, però quando vado a mangiarla come sapore non mi piace mai, è sempre troppo stucchevole. E allora, è della Jupa Jups. Dovrebbe essere tipo un liquido senza zucchero. che dice 0% sugar. Adesso lo scritto è minuscolo, non so se si vede. Comunque, vabbè. Devo capire quanta quantità metterne all'interno dell'acqua. In teoria va spremuto dentro, inserito dentro l'acqua ed ha il gusto, ciliegia in questo caso, in questo caso qui pesca. E sono 48 ml, millilitri, a confessione, c'è scritto, sono in inglese. Dice che ha una concentrazione di beverage, non so, per preparare un drink al gusto di ciliegia. Non riesco a leggere niente, perché sono senza occhiali, comunque, vabbè, cercherò su internet, magari. Se c'è una quantità, forse si... Ah, ok, qui dice per 5 litri. Circa 9,6... Devo mettere circa 9 ml al litro, per avere il gusto giusto. Va bene, aspetta, ma c'è un... Qua negli ingredienti vedo che c'è una freccetta... Proviamo a tirare cosa c'è qua. C'è anche in altre lingue, bene. Cioè, guarda, c'è un libretto illustrativo, peggio che nei bugiardini. Vabbè, insomma, ti farò sapere, perché, insomma, se... Per l'estate ci sta, no, ti fa un drink all'acqua, saporito, senza zuccheri, ci sta, appunto, per quello alla pesca. Soprattutto, ma è 89 centesimi, pfff, 89 centesimi ci sta a provarlo. Secondo me, se tu li hai già assaggiati, non spoilerarmi, no, scherzo, dimmi cosa ne pensi. Poi, dopo, andando per ordine coi video che ho fatto. Allora, poi, qui cosa c'era? Ah, sì, c'era della lana e, siccome ho visto il prezzo, 1,24 euro, ho preso solo la nera. Ah, sì, no, ho preso solo la nera, perché la nera sono sicura che poi la utilizzo per fare qualcosa. Volevo provare la lana di Action per vedere com'era. Quindi, per adesso, ho preso solo un rotolo, anzi, un gomitolo, come si dice, un gomitolo. E' 100% acrilico e sono 100 grammi. Quella che avevo preso io dai cinesi, che è questa qui. Oddio, adesso ti spoilerò delle cose. Non guardare, non guardare, non guardare, vediamo, sono, credo sia questa, leggermente più spessa di questa qua. Questa qua costa 1,60 euro e sono soltanto 60 grammi, quindi il prezzo è buonissimo. Ed è sempre acrilico, 100%, quindi, a parità di prezzo, è fantastica questa. Adesso bisogna vedere se è una buona lana, tra virgolette, lana, perché è acrilico. E se non si filaccia durante la lavorazione, ma a me sembra abbastanza... Non so, mi sembra uguale all'altra. Quindi tornerò sicuramente se... Se me ne serve a prenderla lì, perché è il prezzo veramente conveniente per la quantità. Peccato che ci siano veramente pochissimi colori. Cioè, veramente pochi. Eccola qui, questo è un altro video. Sì, c'era nero, verde, rosa, azzurro, grigio. Veramente pochi colori, sì, purtroppo. Cioè, non c'era neanche viola, avrei voluto comprare il viola, ma non c'era. Quindi, sì, un buon prezzo, però pochi colori. Però, vabbè, nero lo uso sempre, quindi l'ho preso. Poi, mio papà ha visto questo coso qui e l'ha voluto prendere. Guarda questo cos'è che lui ha la mania delle costruzioni di legno, no? Ne abbiamo tantissime a casa e ha visto questo. che praticamente è, non so come si chiama, un percorso, chiamiamolo così, un percorso per fare andare le piglie. Poi, non lo so, comunque, 16,95 euro è stata la cosa più cara che abbiamo acquistato. Perché, appunto, tutto il resto è costato molto, molto poco. Però, l'ho detto, non importa, anche se costa 16 euro, lo voglio, ok? 3D Mechanical Puzzle Marble Run. Bisognerà comprare anche le piglie, perché non ne ho. Insomma, forse ci sono dentro. Non lo so, ti vorrò sapere. Qua dice, immergetevi nel mondo interattivo degli ingranaggi mobili e osservate come la vostra creazione meccanica prenda vita, incluso, 9 pannelli di legno, carta abrasiva, cera e 10 piglie. Perfetto, ci sono già i piglie a posto. Consiglio, prendetevi il tempo necessario per familizzare con tutti i materiali e con il manuale, avvertezza ed ecco, tra i geni in su, contiene parti di piccole dimensioni. Tenere volita la portata di animali domestici e bambini. o no, Sam? Di solito lui queste creazioni ne ha ancora un'altra di quelle tipo l'ultimo che avevamo preso, tipo Carillon, avevamo preso un altro Carillon da fare e deve ancora farlo, ma lui in due orette massimo, il tempo che si asciughi la colla li fa. e invece questo ha già detto, ah, qua mi ci vorranno quattro giorni. Secondo me lo fa in un giorno, però vabbè, voglio farmelo con calma, mi ha detto, ci metterò quattro giorni in tutti questi quattro giorni solo perché si asciughi la colla, mica perché perché sono, sono facili da fare e, cioè nel senso, se uno parte da zero o no, però ne abbiamo fatti da mente tanti e che alla fine, insomma, ci prendi la mano e, ehm, è sempre più complicati. Questo qua mi sembra bellissimo, non vedo l'ora che lo faccia, dopo non so più dove metterli, però, a farti questo, vabbè, poi, ehm, qui, ah, sì, avevo visto a quattro ore 95, c'era questo kit per fare le candele, non l'ho comprato, però mi sembrava molto carino anche da regalare. Poi qui c'erano altre cose, sempre di kit, qui c'era Paint by Numbers, però ho fatto con il legno e poi, ah, sì, ho preso a 1,69 euro queste luci perché mio papà le usa sulla bicicletta e, ehm, in giardino qualcuno ha messo le mani e le ha tutte scaricate perché lui se le ha trovate accese, poi dopo, quando è andato a usarlo, la volta dopo erano scariche, abbastanza le abbiamo ricomprati e, anche perché belli, neri, così, eh, tempo fa li acquistavamo da, ehm, da Tiger, ma adesso, l'ultima volta, li avevo visti a quattro, più di quattro euro, una cosa del genere, poi allora avevo iniziato ad acquistarli al mercato e costano due euro e, invece, il prezzo migliore, poi, quelli del mercato sono uno bianco, uno rosso, invece, tutti neri, tutti neri con il dietro rosso, il davanti, eh, trasparente, diciamo, la luce bianca, ecco, la luce gialla, quel che è, ehm, sono molto più belli, anche, perché, secondo me, si mimetizzano un pochino nella bici, essendo neri, magari, nessuno andrà a schiacciarle, se spera, eh, sono fatti così dietro, eh, non so se li ha mai utilizzati, comunque, hanno già la batteria all'interno e c'è la sicura, quindi, eh, hanno il sigillo, ecco, oggi qui nel mercato non sempre funzionano, questi mi sono fatti molto molto meglio per essere un, per il prezzo, appunto, che abbiamo pagato, e le puoi mettere alla bici o dove ti pare, noi le mettiamo alla bici, era nel reparto bici, infatti, poi, andiamo sempre con l'ordine, con il mio acquisto, ah, ho comprato le batterie, eh, all'inizio pensavo di prendere solo le mini stilo, che sono le AAA, poi mio papà ha detto, ma per quel prezzo lì prendi anche le stilo, che sono le AAA, e così abbiamo una scorta, costano 2,38 euro al pacchettino, confezioni da 10, e appena le avevo già comprate funzionano bene, e il prezzo più economico costano meno anche di quelli del Lidl, e quindi, quando ogni volta che vado da Action faccio la scorta, è la seconda volta che le compro, vuol dire che mi sono durate tanto, ecco, perché anche dai cinesi, per esempio, costano tanto e non te ne danno 10, ma con questo prezzo qua, non compri neanche il pacchettino da 4, quindi, ecco, va bene, poi, cosa abbiamo preso, cosa abbiamo preso, vediamo un po', ah, ho trovato i profumi, i profumi piccolini, a 99 centesimi, è una società d'alea, ad annusarli tutti, all'inizio volevo prendermi questo, però poi ho cambiato idea, perché l'avevo solo annusato così, per fortuna poi l'ho spruzzato, e il profumo su di me era nauseabondo, perché per fortuna ci sono i tester, e bisogna sempre spruzzarli sulla propria pelle, perché in base alla propria pelle il profumo cambia, e avevo spruzzato quello, poi ne ho spruzzate altri due, che mi piacevano tanto, ero molto indecisa, alla fine ho preso questo, Royal Touch, c'è il nome Forever, perché erano tutti i profumi da donna, e ha un buonissimo profumo, che tra l'altro li avevo spruzzati tutti e tre sulle mie braggia, e quello che poi mi è durato fino a sera, quindi ho fatto benissimo a sceglierlo, poi ho notato dopo che aveva anche la confezione verde, non l'avevo notato subito, non avevo proprio notato le confezioni, stavo solo annusando tutti i vari test, 99 centesimi, ci sta per provare un profumino nuovo, cambiare così, dopo, si presenta così all'interno, è difficile spiegare la profumazione, diciamo che sia dolce che agrumato, secondo me, è un po' forse orientaleggiante, non lo so, in realtà non ho idea, anche perché poi è spruzzato in base a chi se lo spruzza, ho un profumo diverso, come al solito, la prossima volta mi prenderò l'altro, di cui ero indecisa tra i due, l'altro era molto molto più dolce, quindi per 99 centesimi lo prenderò, perché questo è buono e penso mi durerà poco, però spruzzato di giorno, adesso ho quasi finito, ho preso il profumo, quello, magari il tube di qualcosa, potrei cercarlo, e avevo il tube di, oddio, ho un tube dell'Ital, di cui adesso non mi ricordo, scusate la pronuncia, credo di aver quello, è quasi finito, adesso cerchiamo su Google, su San Google, sta piovendo, vedo che c'è proprio un profumo, che si chiama Royal Dutch, ma non so se è di Action, che è sempre il tube, cerchiamo su TikTok, non trovo niente, comunque fatemelo sapere nei commenti, grazie, sta diluviando, adesso all'improvviso ho preso un colpo, poi che cosa abbiamo acquistato, vediamo un po', dopo il profumo, ah sì, ho preso questa a 99 centesimi, che è una matita per le labbra, adesso la proviamo insieme, se sentite un rumore strano fuori, che sta diluviando, però un po' dovevo controllare Sam, comunque, è questa, bello che c'è scritto italiano, e poi l'hanno scritto in spagnolo, in spagnolo, quindi in italiano non c'è traduzione, bellissimo, comunque sì, è Contouring Lip Liner, è Max & More, la marca, e ho preso la colorazione 344 Muffin, che non ho idea di che colori sia, perché non si poteva provare, c'erano poche colorazioni, gli altri erano troppo sulla rosa, non ho capito perché fare una confezione così gigante per una, però vabbè, allora così da esterno sembra, assomiglia un po' al rossetto che di solito uso io, volevo una cosa nude, perché, ti spiego, e quando mi metto il rossetto qua, che faccio, che tutti mi dicono, metterlo un po' sopra al labbro, anche perché io ho il labbro superiore finissimo, quindi, per forza devo mettere sopra, altrimenti non lo metto proprio da nessuna parte, e mi mi fa via, mi fa via dopo un po', allora mi hanno detto, devi mettere la matita, va bene, ok, adesso proviamo, ah non è proprio matita, è fatta così, pensavo fosse proprio una matita di legno, ecco, però vabbè, dai, la proviamo, è perfetto il colore, non si vede ovviamente, ma il colore è perfetto, secondo me, forse è un po' chiaro, però vabbè, dai, voglio provarlo, c'è anche il rain sound fuori, cioè, che culo, vabbè, vabbè, insomma, la proverò dopo magari, e poi, 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 sono andata nel reparto cose da mangiare, ho preso di nuovo la trocca, che è quel mix, poi lì ho fatto vedere un po' di cosine leggera, proprio poco poco, e, niente, il mix è quello mio preferito, lo sai qual è, ce lo sai, che ho prendo ogni volta, questo mix, macadamia, nut mix, che è super buono, poco salutare, perché è fritto, allora, mix salato con frutta secca e arachidi fritte, macadamia tostata in mais, 29% arachidi, 19% anacardi, 18% mantorle, 10% noci macadamia, 9% noci pecan e 9% mais dolce, e basta, poi c'è olio di girassolo e sale, sono buonissimi, proprio sono fritti, sì, già, e poi c'è quel mais lì croccante, buonissimo, di solito quel mais lì è mega duro, cioè è duro proprio, ti spacca i denti, invece questo è bello croccante, cioè sembra vuoto dentro, non so, proprio da popcorn fritti, cioè buono, e anche tutto il resto è molto buono fritto, vabbè, qualsiasi cosa fritto è buono, ma, insomma, perché mangiare la frutta secca, sana, quando puoi mangiare la fritta, cioè voglio dire, che brutta persona, vabbè, siccome va via come il pane a casa mia, ne ho presi due confezioni, poi mio papà si è preso, non ho fatto il video, perché non mi sono accorto, l'ho visto adesso nel sacchetto, si è preso di nuovo, rumini e rullini, rulletti, come si dicono, per, perché lui fa l'imbianchino e si è trovato molto bene l'ultima volta e li paga molto, molto meno da action e sono buoni, quindi li ha ricomprati. Poi ha ricomprato anche questi pennelli, che si è trovato molto bene e che costano molto, molto poco rispetto a dove va l'ingrosso a comprare lui, insomma, per il suo lavoro e quindi ha preso questi pennelli qua. E basta, tutto qua, non abbiamo preso nient'altro, cercavo delle cose che non ho trovato, ma come ho detto all'inizio tornerò a acquistare sicuramente l'altro profumino, perché ero indecisa, quindi per 99 centesimi prenderò anche l'altro, oppure ricomprerò questo se mi piace tanto, 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 vorrei trovarlo anche grande, non so se c'è grande, non l'ho visto grande lì da action, non l'ho visto solo piccino, vabbè, proverò, fammi sapere cosa ti è piaciuto, quando costruirà quel marchigegno la 3D, te lo farò vedere sempre su IG, spero che questo video ti abbia fatto rilassare, come sempre ti auguro buonanotte, buon relax, ciao creatura.